Il capitale di rischio è quando Marco fa una società, mi piace da morire, è una buona idea, credo che potremmo produrre degli utili e io voglio essere socio con te, quindi entro con un capitale nel rischio di impresa. Marco è un bravo imprenditore, ma non so se questo business andrà bene, però è una persona affidabile, lancia la sua impresa, ti presto dei soldi, entro nel capitale di debito, il rischio è tuo, l'azienda è tua, io ti presto solo dei soldi, tu mi paghi un interesse e alla fine me li restituisci. Grazie